Cristiano Ronaldo ha promosso la città in Madeira, cioè l'isola in Madeira non è più un puntino nella carta geografica, così come la Sardegna non è più terra di banditi, la frase che dice Riva. Riva nella sua soddisfazione di vincere lo scudetto dice abbiamo dimostrato al mondo che Cagliari non è la capitale di un'isola di banditi. Il Cagliari per me è il simbolo di una regione, la metafora vincente di una regione, è l'unica possibilità che abbiamo di poter pensare come esempio a come uscire da una condizione economica, da una condizione culturale.